La certezza è che la bolletta dell'Atari aumenterà. Divergenti invece le opinioni in merito a questo rincaro. Per l'assessore al bilancio Andrea Nobili si è applicato il minore aumento possibile che si attesterà per un incremento medio del 4% per le utenze non domestiche e ancora inferiore per quelle domestiche. E' quanto riferito nell'ultimo consiglio comunale della legislatura convocato come monotematico per l'approvazione dei ritocchi a questo tributo. Un rincaro per Nobili che è stato ridotto al massimo dopo che il 19 aprile si è svolta l'Assemblea Territoriale d'Ambito che aveva deliberato l'aumento per i comuni del 5,6% dell'aliquotatari sull'onda degli aggiornamenti del piano economico-finanziario che analizza parametri quali caro benzina, inflazione e aumento del costo dei contratti dei dipendenti. Per l'opposizione in consiglio comunale resta invece un rincaro non accettabile su una tariffa già alta, già aumentata in passato e destinata a crescere anche nel 2025. Tant'è che l'approvazione della tariffa Tari 2024 è passata in consiglio comunale con 10 voti contrari e 20 favorevoli. Contrarietà che diventerà manifestazione di protesta il prossimo sabato 4 maggio, quella organizzata a Campo di Marte di Baia Flaminia dalla lista civica Vieni Oltre in corso elettorale per le amministrative di Pesaro. L'approvazione delle tariffe arriva a pochi giorni dall'ufficializzazione della destinazione del fondo anticrisi da 300.000 euro proprio a sostegno del pagamento della Tari a beneficio delle famiglie in difficoltà. Potranno farne richiesta le famiglie con ISEE inferiore ai 16.000 euro che saranno in regola con il pagamento delle prime due rate con scadenza 16 giugno e 16 agosto. Per queste famiglie il Comune si farà poi carico della terza e quarta rata. Grazie a tutti.